Subire invece un taglio così dalla sera alla mattina letto addirittura sui giornali non lo penso rispettoso né per un'amministrazione comunale ma soprattutto per una cittadinanza che abita a un territorio. È il giudizio dorissimo che il sindaco di Montemurlo Simone Calamai esprime nei confronti del taglio della postazione medicalizzata che il suo territorio subirà da giugno a settembre, secondo quanto deciso dall'Astoscana Centro, per far fronte alla carenza di organico che nel periodo delle ferie si fa drammatica. Poco importa se sarà sostituita da un'infermieristica, il modo in cui è stato trattato il problema ha il sapore della riduzione del servizio. Non si può pensare semplicemente dalla sera alla mattina di togliere una medicalizzata in un modo un po' semplicistico che significa semplicemente dare anche nei confronti della cittadinanza la visione di una riduzione di servizi. Ecco, a questo non ci stiamo. No, quindi, a interventi spot per risolvere un problema cronico che in Toscana si trascina da anni, ma ha ampia disponibilità a partecipare a una riforma organica del settore. Non si può pensare di rattoppare questa maglia buco dopo buco. Bisogna invece pensare veramente a una riforma, sia una riforma rispettosa di tutti i territori e di tutte le realtà, che il numero alla mano, insomma, pensi a un modo migliore di gestione delle risorse. Il primo cittadino montemurlesi comunque non si arrende a tale decisione. La prossima settimana incontrerà l'ASL e chiederà un correttivo. Proporrà una rotazione al tavolo con l'ASL e la regione? Sì, è una questa delle proposte che ho fatto. Se si tratta di fare un rattoppo, pensiamo che non abbia senso semplicemente pensare a Montemurlo o a Turcourt, ma che possa invece essere fatta attraverso il sistema della rotazione. È la prima cosa che si fa in un'organizzazione nel momento in cui c'è una limitazione delle risorse. Non capisco perché non sia stata pensata allora.